Allora che si fa oggi? Oggi non si lavora perché sono fuori nell'interazione del giardino di casa mia con questo signore qua che è Francesco. Ciao Francesco! Francesco Santini che cura la mia collezione di bonsai quindi siamo qui concentrati oggi soltanto sulla mia collezione di bonsai. Questo è un acero che ho appena preso e che abbiamo rinvasato in questo bellissimo vaso giapponese questo è un altro per adesso abbiamo fatto questo di piante qua ok bellissimo acero tridente anche qua è un bel vaso giapponese e abbiamo un sacco che voleva fare questo è una beta la corte natura questa è una piccola rosa che fa un fiore delicatissimo molto bello poi c'è qualche nuovo arrivo in casa vanico questa è una pianta della mia collezione è una è un piroventa fila in stile literati si chiama stile cinese tipicamente cinese stile literato stile dei poeti vedete c'è qualche pianta da su cui stiamo lavorando perché Antonio vanico fa bonsai una passione che avevo fin da piccolo pensate che questa pianta adesso la faccio vedere questo olmo questo qui ce l'ho dall'età di 17 anni quindi sto parlando di 30 anni fa adesso abbiamo visto quel vaso blu bellissimo è un uomo cinese quello è un uomo cinese vero nome cinese quello lì si è un uomo cinese non volevo sbagliare ed è molto bello con pianta ma soprattutto è bello il fatto che ce l'abbia con me da 30 anni perché perché fa i bonsai si fa bonsai per contemplazione cioè l'arte dei bonsai io non sono un grandissimo bonsai non sono bravo come bonsai sono più un collezionista però l'arte bonsai la fai per coltivarli ovviamente perché sono belle e quando io finisco di lavorare o la mattina quando mi sveglio mi troverete nel mio giardino in questo piccolo giardino oggi particolarmente disordinato a contemplare le mie piante a guardare i loro progressi un po come dei quadri rappresentano no piante natura per esempio questo qui rappresenta una piante matura la parte bianca e la parte così si vede meglio nella parte morta l'intemperi fumi eccetera e l'altro l'altro pezzo di pianta è viva contemplativa ovviamente come un bel quadro la differenza e queste qua sono vive quindi ne vedi negli anni vedi lo sviluppo non solo per me anche molto bello vedere la pianificazione no vedere quanto oggi penso una cosa faccio un taglio domani trovo qualcosa quindi l'arte bonsai la coltivazione delle piante ti consente anche di far pianificazione vabbè detto questo oggi non si lavora tutto il giorno bonsai ciao a tutti